Buongiorno, sono Filippo Fassina, rappresento in questo momento il movimento Xinsio Rebellion Roma. Xinsio Rebellion è un movimento internazionale che è nato in Inghilterra nel 2018 e utilizza la metodologia della disobbedienza civile a livello internazionale per mettere pressione sui governi, per contrastare gli effetti del collasso climatico ed ecologico. In particolare Xinsio Rebellion porta davanti tre richieste che sono semplici ma non banali. La prima richiesta è quella che il governo deve dire la verità, ovvero informare la popolazione correttamente e assiduamente e nei termini corretti. Possiamo dire sulla falsa riga di come è stato fatto per il Covid, anche se possiamo forse questionare sui termini corretti, ma in maniera massiva la popolazione deve essere informata sulla gravità della crisi climatica ed ecologica che è già cominciata. La seconda richiesta è quella di agire subito, di agire ora e di ridurre, abbattere le emissioni e portarle allo zero netto entro il 2025, a partire quindi da adesso siamo già in ritardo per quanto riguarda questo obiettivo. Come movimento sappiamo e capiamo che questo obiettivo, ovviamente questa richiesta può sembrare utopica alla maggior parte delle persone, ma allo stesso tempo questa data non è casuale, è la data che la scienza ci indica come data necessaria per evitare di raggiungere e superare i due gradi di aumento delle temperature rispetto all'era preindustriale e quindi diciamo di rispettare anche quelli che sono gli accordi di Parigi che sono stati presi anche dal governo italiano. Per cui quello che noi diciamo è che chiediamo non ciò che è possibile, ma ciò che è necessario. La terza richiesta, ed è il motivo per cui siamo qui oggi insieme a Politici per Caso, Marco Cappato, Humans e tutte le altre associazioni, è quella di istituire assemblee di cittadini con potere deliberativo. Assemblee di cittadini, insomma oggi se ne è parlato in abbondanza, oggi viene lanciata la raccolta firme per la proposta di legge popolare. Secondo Exitio Rebellion le assemblee di cittadini hanno il potere innanzitutto di ridare parole ai cittadini e quindi anche di andare a sopperire quelle che sono la mancanza della democrazia rappresentativa che è costretta, i rappresentanti che leggiamo sono costretti ogni quattro anni a ricercare consenso popolare e tutti sappiamo che le misure necessarie per restare sotto i due gradi di aumento della temperatura saranno ovviamente impopolari. Per questo motivo chiediamo che la parola venga data ai cittadini e che queste assemblee di cittadini, con cittadini appunto strati a sorte ma rappresentativi della popolazione, queste assemblee di cittadini devono avere il potere deliberativo per evitare quello che ad esempio è successo recentemente in Francia per cui la convenzione dei cittadini sul clima si è espressa in maniera estremamente favorevole introducendo un centinaio e passa di proposte tra cui anche quella dell'introduzione dei rati di ricocidio ma Macron non è stato poi fedele, non ha accolto la maggior parte di queste richieste. Per cui insomma siamo qui oggi presenti e sosteniamo la campagna di politici per caso e faremo insomma tutto quello che è il nostro potere affinché le assemblee cittadini vengano istituite anche in Italia.